La forma più alta di noi, hanno fatto una partita e stanno facendo molto bene tutte le partite che hanno giocato. Sicuramente anche domani sono convinto che l'Italia passerà e questo torneo andrà alle Olimpiadi, perché davvero stanno giocando molto bene. Tu hai già deciso di vendere l'anno prossimo? Ho deciso, vado a Russia. Rispetto all'Europeo è una partita molto diversa? Molto più diversa perché l'Italia, secondo me, con Fe, è in posizione centrale ancora più forte. Poi sono in forma fantastica, hanno fatto una partita bellissima. Noi siamo lontani dal gioco, da tutto e abbiamo visto il risultato, ha detto tutto.